. Oggi uomini e donne, Sabrina piange in studio, esterna speciale. . Uomini e donne oggi, Sabrina si commuove, il gesto di Nicolò Fabri. A Uomini e donne oggi va in onda una nuova puntata del trono classico. Si parte subito dalle esterne di Sabrina Ghiò. . La tronista ha portato fuori Nicolò Fabri, Nicolò Raniolo e Simone. Prima di vedere le varie uscite, però, si avvia un dibattito tra Tina e Raniolo. . Il corteggiatore è convinto che la Cipollari provi un'antipatia ingiustificata nei suoi confronti già dalle prime registrazioni. Andando avanti, si parte proprio dall'esterna di quest'ultimo. . I due si confidano e il ragazzo ci tiene a mettere in chiaro che non potrà mai essere uguale al suo rivale. Laghi rivela che non vorrebbe mai vederlo simile ad un'altra persona. . In studio di discute un po', ma poi si passa all'uscita con l'altro Nicolò. . Dopo una scarica vera e propria di adrenalina, Nicolò Fabri ha un regalo per Sabrina. Il corteggiatore ha infatti acquistato un pensierino per la figlia dell'atronista, Penelope. . Di fronte a tale gesto, la donna resta senza parole e visibilmente emozionata e commossa. . In studio, Laghi rivela di aver paura di essere giudicata come madre per la sua scelta di partecipare a un programma come Uomini e Donne. Con Simone è invece un'esterna molto tranquilla e di conoscenza. . . Una volta finito di mandare in onda il video, però, si accende una discussione contro Fabri. . La tronista è venuta a sapere che il corteggiatore ha chiesto, a quelli che dovrebbero essere i suoi rivali, di andare a ballare insieme dopo la puntata. . . Mattia e Paolo hanno entrambi portato in esterna la bella Angela. Con Marciano si beve un cocktail e ci si lascia andare a varie chiacchiere. . Il tronista rivela di aver fatto una bella scoperta e spera che la ragazza si dichiari per lui. Con Crivellin si scambiano due parole al tramonto. . . In studio le viene chiesto se sia pronta a dichiararsi, ma lei si dice ancora confusa. Inoltre, Paolo rivela che non aspettava tutta quella complicità con Mattia. .